benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui per farvi un video assaggio questo video mi mette una paura specialmente per un prodotto che mi hai detto ti do io la recensione fa schifo ok io direi di iniziare questa volta abbiamo pari anche se io mi toglierei il dente si ok togliamocelo sai perché perché a me ne può andare con la tua maglia? con la mia maglia maglia poi coca cola è tipo greca va bene coca cola gusto marshmallow guarda non mi dispiace l'odore ma parlano di cose bianche mi dico che di caramella bianche fate la sticca di coca cola con quel giallo dentro c'è il simila è non è male sai che sembra le caramelle con mousse a cuovola brah mi aspettavo molto peggio oh aspetta marcibello di rio aspetta c'è pure il fatto che noi abbiamo provato tante bevande quindi la nostra recensione è veramente su una venuta ampissima perché abbiamo provato la randite la randite no come era ramone ramone orribile c'è quella veramente penso che sia stata per ricordartela pure tua ma quella peggiori veramente questa è buona oddio buona non da allargare vabbè no però lo sento quel retro gusto pure di coca cola sembra tipo coca cola sfumato sai che mi sembra la coca cola zero sfuma quando la bevi dopo tipo qualche ora che si sente solo il dolce una cosa che mi piace non hanno marcato con il marshmallow c'è la sensazione è quella cosa stucchevole dolce c'è della riesce a bere tranquillamente oddio forse non tutta ok no però abbiamo provato veramente di peggio quindi ci sta chi dice guarda a me non è piaciuta proprio perché ha una veduta molto stretta tipo ha provato pochissime bibite noi che ne abbiamo provate tante possiamo dire guarda ce ne sta un'altra che no no fa pena siamo due di noi abbiamo sei bicchieri ok ok salato? si che dici? io ti partirei fare prima questo ok comunque abbiamo fatto bene a fare bevandolo sai ormai almeno siamo più troppi elementalmente allora long chips si spiegano tanto secondo me ha più una più che patina bello questo peffè beh bellissimo più che patina siccome sarà proprio come tipo la polenta eh questo qua vuole patate forse sour cream va si che sia la patatina più strana che abbiamo mangiato un cracker questa è proprio la patata schiacciata ma lo che è aromatizzata che è aromatizzata quello stavo dicendo uguale a sour cream io sono molto declate però forse preferisco più queste buonissime oh delicatissime però la consistenza buonissime pensa a paprika pensa a paprika andiamo a bere un attimo anche se buonissime voto voto dieci dieci la come ma quei colori buon 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 mai visse io questa prego questo è bello si è bello si è proprio questo è proprio papiro messicano peperone mh devo aspettare a parte è tutto papiro perone non la papiro è buoni non è il gusto paprika delle pringles proprio peperone anche se è paprika peperone alla fine no mi fa proprio di quella paprika messicana che pure speziata tipo è il pezzo che ho preso io no non mi piace forte sour cream si se le trovate prendete sour cream si vuoi ricordare il gusto queste le cedo volentieri esatto per io ok ritter sport cioccolato bianco e cornflakes ne vedi penso tedesco con la valla oddio sai che mi ricorda le pecorelle di cioccolato devo vedere sopra allora lo so possiamo vedere pure allora sper raga oi io facciamo così ma quanto è mi dà oh cioccolato facciamo così troppo non fa così pensiamo così ma ecco qua ma scusami prego formiglie noi lo facciamo per cioè raga ma ma di che stiamo a parlare e non lo neanche mai mi sta bene noi da qua vogliamo vedere i mostri solo buona però se avessero fatto una cremina un yogurt pregola qualcosa di cremoso dentro ci vuol dire tu che dici buona buona c'è la piccantezza però buono dovevamo spingere un po' quello è secondo me il cioccolato bianco oppure lasciare così ma fare uno strato tipo di yogurt oppure proprio fare un cioccolato proprio al latte però però questa che fa voto del cioccolato allora qui avrei dato un 8 7 se fosse stato poi puoi dire 7 oeeh oeeh super bella super bella ah per il momento questo è l'ultimo per il momento questo è l'ultimo ma stiamo aspettando Degu che poi chissà quando uscirà questo video Degu Saboc sarà già uscito il video assaggio di Degu Saboc sarà già uscito chissà